SONO D'ACCORDO Ci sono cose molto belle qui, ma alcune brillano di luce propria. Non si può fare a meno di riconoscerlo. Lei... crede davvero in me? Io potrei aiutarti. Io potrei lavorare con te. Io posso far accadere quello che vuoi. Dipende se tu lo vuoi davvero. Signor tedeschi? Michael? Salve. Ivana, si ricorda? Sì. Volevo solo mostrarle il mio portfolio. Oh, sì. È magnifico. Innososos.